Privet, prodalžaem izucet statiu ab atmenie roaminga v Russi. Continuamo a studiare l'articolo sull'abolizione del roaming in Russia. In questo video vedrai alcuni sostantivi e il modo in cui sono stati declinati. Dopo aver visto questo video, saprai dire qualcosa di nuovo in lingua russa. Nel testo che vedi a sinistra e che hai provato a pronunciare guardando il video precedente a questo, troviamo la parola servizio, služba. Vuol dire esclusivamente un'agenzia o un ente d'affari che si occupa delle relazioni con il pubblico o dei servizi tecnici. In questo caso diremo služba. Ma se intendiamo servizio come disponibilità personale o favore o cortesia, si dirà la parola usluga o più raramente service. L'articolo parla dell'abolizione del roaming, perciò guardiamo la parola abolizione, annullamento, cancellazione. Atmiena. Prova a trovare la frase conta sulla cancellazione del roaming nazionale. Com'è stato declinato il sostantivo atmiena in questa frase secondo te? Essendo femminile acquisisce la vocale finale u all'accusativo. Come dice regione? Regione. In italiano è femminile, in russo è maschile. Come diresti la nostra regione? Nell'articolo che stai studiando ci sono alcune parole femminili che finiscono con il segno dolce. Si declinano nello stesso modo quindi. Vediamole. Una è telefonia mobile. Sves. Nel testo è declinata ma il nominativo finisce con il segno dolce. Sves. Questa parola ha molti significati in russo. Legame, relazione, comunicazione. Sves. Tra un minuto scopriremo come si può usare questa parola nei vari casi di declinazione. Ma intanto troviamo alcune altre parole dello stesso tipo. Come dici? Prontezza. Gatovnaest. 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 Come diresti? Notizia. Novast. E come si dice rete in russo? Sit. Sit. Tutte queste parole sono del genere femminile e appartengono allo stesso tipo di declinazione. decliniamo insieme la parola notizia. Novast. Al nominativo è appunto così come con il segno dolce finale in scrittura. Novast. Al genitivo perde il segno dolce e acquisisce la i. Novasti. Proprio come il suo plurale alla forma di partenza il nominativo. Come dice la parola notizia al genitivo? Novasti. Usando la preposizione ISA che vuol dire a causa di, per colpa di, per via di, ISA. Prova a dire abbiamo cambiato i progetti a causa della notizia. per dire i progetti diremo i piani, plan e la frase diventa La parola notizia segue ISA, perciò è al genitivo. La stessa parola al dativo sarà NOVASTI. Come vedi è uguale alla forma precedente il genitivo. Come capisci la frase? PERECHODIM KNOVESTI O ZACOGNE PERECHODIM KNOVESTI La preposizione KNOVESTI La preposizione KNOVESTI regge il dativo, perciò usiamo la parola notizia al dativo subito dopo. NOVESTI Per dire notizia all'accusativo useremo la forma NOVEST, è uguale al primo primissimo caso, il nominativo. Prova a dire sto leggendo la notizia. NOVESTI Allo strumentale la forma cambia, si pronuncerà NOVASTIU APPARE la vocale YOU dopo tutta la parola così com'era. CONOSCI IL VERBO ASNAKUEMITSA Prendere conoscenza, prendere visione di qualcosa. ASNAKUEMITSA Come diresti in russo? Abbiamo preso conoscenza della notizia. ASNAKUEMITSA S NOVESTIU M ASNAKOMILIS SNOWESTIU La preposizione CON, S, richiede che subito dopo la parola venga messa allo strumentale. Ecco perché troviamo la forma NOVESTIU. E infine il prepositivo. Di nuovo troverai la forma NOVESTI che tanto ci è piaciuta. NOVESTI Diciamo insieme la frase. Abbiamo parlato a lungo della notizia. 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 Essendo il complemento argomento, la parola notizia si mette al prepositivo, è una regola. E troviamo appunto questa forma, novosti. Allo stesso modo potresti declinare le altre parole dello stesso tipo. Infatti hai visto poco fa, telefonia mobile, sveis, rete, sieg, prontezza, gotovnest. Che caso di declinazione è stato usato per dire gli operatori della telefonia mobile? Qui la parola sveisi è un complemento di specificazione, gli operatori di che cosa. Quindi si usa il genitivo. Invece dove trovi la frase comunicare una bella notizia? Sveisi. Secondo te che caso di declinazione è? Essendo il complemento oggetto, la parola notizia è all'accusativo. Ora questa. La frase dichiarano la propria prontezza ad abbassare i prezzi. Com'è stata declinata la parola prontezza? Qui è al prepositivo, visto che prima ancora c'è la preposizione o che introduce un complemento argomento. Quando la rete di un dato operatore è assente in una regione. Quando la rete di un dato operatore è assente in una regione. Com'è stato declinato il sostantivo set, rete? Non è stato declinato, è il soggetto della frase, perciò lo troviamo al nominativo. Hai fatto un ottimo lavoro oggi. Più esercizi di questo tipo fai e più ti avvicini a una vera e propria capacità di parlare in lingua russa con sicurezza e correttezza, in modo tale che tutti ti capiscano al volo. Vai al mio prossimo video per scoprire dei verbi usati nel nostro articolo di oggi. E intanto, пока! Da скоро va! Ciao! 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 Grazie a tutti.